Mancano ancora pochi giorni alla scadenza del bando Start Impresa di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, il percorso gratuito di formazione specialistica per lo sviluppo delle nuove imprenditorie, che premia le migliori idee e offre la possibilità di sviluppare il proprio progetto. Il termine per la presentazione delle domande è fissato infatti a venerdì 30 agosto. Il progetto, quest'anno alla sua 14esima edizione, è promosso dalla sezione e servizi innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e offre gratuitamente ad aspiranti imprenditrici e imprenditori la possibilità di costruire la propria impresa acquisendo conoscenze e strumenti pratici, come spiega il Tg8 Paolo Campana, vicepresidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e responsabile del progetto Start Impresa. Si rivolge alle persone che hanno un'idea imprenditoriale ma non hanno le competenze per poter realizzare questa idea imprenditoriale. È un percorso gratuito, di grande valore perché è gestito da manager, da imprenditori che partecipano con il loro tempo e con le loro esperienze. Idea imprenditoriale non vuol dire necessariamente un'idea innovativa, ovviamente un'idea innovativa è ben accetta ed è importante, ma anche idee non innovative che però sono ben strutturate e portano comunque ad un risultato economico interessante, sono idee che noi accettiamo molto volentieri e portiamo avanti con grande piacere. In questi anni, qui siamo alla 14esima edizione quest'anno, abbiamo portato avanti più di 170 idee progettuali. Il filo conduttore del nostro percorso è la creazione del Business Splend della propria idea progettuale. Business Splend è la proiezione nel futuro economica della propria idea e quindi è l'elemento fondamentale per capire se la propria idea ha le gambe per camminare o a volte non le ha e quindi è meglio rinunciare a priori prima di mettersi in un percorso che potrebbe portare a delle complicazioni. Le idee migliori sono di vario tipo, dal campo dell'agricoltura, al campo del turismo, al campo della meccanica, al campo elettronica e altro. L'importante è che siano ben strutturate, siano sostanziate da un'idea forte e soprattutto dalla volontà di fare il percorso tutto dall'inizio fino alla fine. Ci sarà ovviamente poi una giornata conclusiva? Agli inizi di febbraio del 2025 e sarà una giornata in cui avremmo selezionato una serie di Business Splend che riteniamo eccellenti e le persone che hanno prodotto questi Business Splend li proporranno a giuria terza e questi Business Splend eccellenti verrà selezionato un Business Splend più eccellente degli altri che avrà anche un premio in denaro. Però la cosa che tengo a dire è che non è questo il vero premio. Il vero premio è partecipare, imparare e verificare se la propria idea imprenditoriale è un'idea che ha un senso o non ha un senso. Il bando prevede l'ammissione di un numero massimo di 25 partecipanti con l'unico requisito richiesto della maggiore età. Per partecipare le iscrizioni avvengono sulla piattaforma di Confindustria Medio Adriatico.